Ciao Foodspring, siamo tornati, sono super contenta perché adesso vi presento un prodotto che mi sta al cuore Il gelato Io adoro il gelato in tutte le sue forme, la sua consistenza, i suoi gusti Frutta, creme, cremolati, sorbetti, qualunque cosa Perché mi piace il gelato Ma la cosa più bella del gelato è che di solito ha meno calorie 100 grammi per 100 grammi in confronto a un biscotto, un dolce e quant'altro Ma quando si parla di Foodspring diventa ancora più interessante Perché Foodspring usa pochissimi zuccheri, usa la stevia, usa dei dolcificanti naturali che ci aiutano a avere il gusto ma senza le calorie Uno e due con tante proteine Questa è la cosa che ci piacciono perché adesso possiamo avere un dolce dell'estate super rinfrescante Che ci aiuta a avere un dolce buono che ci fa godere quest'estate senza senza di colpa Mi sono fatto le mie formine di questo gelato che ha la consistenza cremosa Usano l'olio di cocco che comunque è sempre un grasso molto sano Adesso abbiamo nuovi gusti Abbiamo il cocco, cioccolato, vaniglia, mango e fragola Questi sono dei nuovi gusti del nostro gelato di Foodspring Un'altra cosa, magari potete utilizzare il flavor kick, ci sono diversi gusti di flavor kick Vaniglia, io per esempio ho aggiunto la banana alla vaniglia Per anche cambiare perché comunque potresti aggiungere un po' della tua inventiva, la tua fantasia, il tuo gelato Per quest'estate a non rinunciare a niente Perché dobbiamo rinunciare al palato, al gusto E anche il fatto di rinfrescarci magari dopo la piscina, dopo il mare o dopo un bel allenamento Questo è il bello di Foodspring perché la possiamo fare tutto con gusto Ma anche con tanta tanta salute Sono 240 grammi, ossia 8 ghiaccioli Ok, considerando che questo viene intorno a 10 euro Vuol dire che ci costano come un gelato magari quelle che comprereste al bar No, anzi, di meno di quelle che comprereste al bar Quello del bar ragazzi, è pieno di zuccheri, è pieno di grassi saturi È poco proteico E qui possiamo avere veramente pochi centesimi Un gusto gelato intelligente 60 grammi di questo polvere crea 2 ghiaccioli Ok, ci sono 35 grammi di proteine nel 2 ghiaccioli Così vuol dire più o meno 18 grammi di proteine in ogni ghiacciolo Con 110 circa calorie per ghiacciolo 110 calorie Bello È molto saziante perché È bello cremoso Bello gustoso Fresco, rinfrescante Pieno di proteine Povero di zuccheri E tutto questo grazie a Foodspring Ricorda Cocco Cacao Cacao Cioccolato Vaniglia Fragola Mango Ok E non dimenticate di prendere la vostra fornina Che ti permette di fare la vostra ghiaccioli deliziosi E volendo potete aggiungere anche il flavor che dà quel kick con più di sapore alle vostre ghiaccioli Così mix and match Cambi, provi Vedi quella che ti sta, diciamo, a ceccio E perché no? Perché non mettete anche scaglie di cioccolato amaro dentro la vostra vaniglia per creare una sorta di stracciatella Tutto è possibile con Foodspring E non dimenticate il mio sconto Il mio sconto GILB YT Per avere 15% di sconto alla vostra checkout quando state sul sito per ordinare non soltanto la vostra gelata O qualsiasi prodotto che vi piace sul sito Foodspring Vi aspetto la prossima volta insieme Passate un'estate, un agosto pazzesco alla rassegna di relax e di sole e di allenamenti Mi raccomando Ma anche di tanto gusto grazie a Foodspring Ciao, alla prossima!